Ciao a tutti, sono Angela Malcuori, vengo dalla Toscana, sono un aso dello studio sanlucchese di Poggi Bonzi. Noi siamo venuti a questo corso perché volevamo un qualcosa in più, delle dritte in più su come affrontare diciamo lo standard di oggi e quindi niente, vediamo come va ma siamo già positive. Grazie.